La questione di una direzione, di una evoluzione che questa direzione di lavoro subisce nel tempo in relazione a quello che uno cerca attraverso il suo lavoro. Nel mio caso è in questo momento molto legata al rapporto relazionale tra le parti di un progetto. Che cosa significa? Significa che sempre più mi rendo conto che c'è una parte di complessità nel progetto che è legata a una divisione di ruoli specifici che queste parti hanno che però prendono poi forza nella loro unità. La relazione tra i primi elementi che io ho imparato, sto imparando a relazionare sono degli elementi apparentemente molto semplici. La forma, il materiale e la dimensione sono la prima grande trilogia di relazioni che compongono un progetto. Ora queste cose si dividono appunto in materia, in dimensione e in forma. Cosa vuol dire? Che questa trilogia a me piace chiamarla bellezza. Questa è la bellezza. Ora, per comporre bellezza, io non posso parlare solo di forma, non posso parlare solo di materiale o non posso parlare solo di dimensione dell'oggetto. Ci sono tanti esempi, ma faccio un esempio che è proprio tipologico, che sono le cose della natura sostanzialmente. Se io prendo un uovo, un elemento apparentemente molto semplice, e ne misuro appunto la materia, scopro che è un cristallo molto fine di calcio sostanzialmente, che la dimensione è di circa 6 cm, eccetera, che il terzo elemento, la forma, è una forma grazie alla quale la sezione voidale, se io carico in un certo modo, lavora strutturalmente come un arco composito. Queste tre cose danno la caratteristica principale dell'uovo, che gli dà le caratteristiche di leggerezza, la caratteristica di resistenza, e la caratteristica di leggerezza, di resistenza, e quindi di funzionalità. Queste tre cose messe assieme danno quello che noi troviamo nell'uovo, che è questo sentimento della bellezza dell'uovo, che è il grande mistero del guscio, tant'è vero che poi diventa addirittura una forma simbolica l'uovo, perché la si usa nei grandi artisti, eccetera. Ecco, a questa relazione di cose che porta a questa bellezza, è una relazione di unità inscindibile nelle parti, ma ognuno ha una tale precisione che diventa di per sé complicatissima, già presa, come dire, in modo univoco, in modo separato dalle altre. La materia, se io entro nella materia del guscio dell'uovo, entro in tutta la composizione cristallina del come la natura compatta, quando vuole compattare, delle materie solide, cioè materie che hanno lo stato solido, che è uno degli stati della materia. Per far questo è una geometria molto complessa, che è la geometria del cristallo, cioè deve compattare delle unità molecolari, secondo una costruzione che è chimica sostanzialmente, che dà la forma del cristallo. La composizione chimica molecolare dà la forma del cristallo. Questa forma, che generalmente ha una forma tetraedrica nel cristallo, diventa poi miracolosamente in macroscala, non più in microscala, ma in macroscala, diventa non più tetraedrica, ma diventa ovale. Quindi c'è un passaggio nella dimensione di forma che già questo è strabiliante. Io uso dei cubi, ad esempio il sale ha invece il cristallo cubico, e uso dei cubi per costruire delle forme che col cubo non c'entrano niente. Uso dei tetraedri, dei dodecaedri, degli elementi di questo tipo, degli esaedri, per costruire delle forme che sono rotonde in macroscala, che sono circolari. La seconda cosa è, avevamo detto, la dimensione. C'è un rapporto tra questa materia e la dimensione dei 6 cm dell'uovo. Lo spessore dell'uovo, che è sotto il millimetro, in relazione ai 6 cm della dimensione, da questa, rispetto alla massa che mi serve per coprire questa superficie, che è l'area superficiale dell'uovo, mi dà un peso di circa 6-7 grammi. Sostanzialmente parlo solo di guscio. Se l'uovo fosse grande tre volte tanto, cioè 30 cm, con questo spessore di pelle, questa composizione, probabilmente sarebbe assolutamente, non solo fragile, ma assolutamente inconsistente. Se fosse di 10 metri con questa pelle non terrebbe. Tiene sui 6 cm. La terza cosa è la forma. Questa forma, che abbiamo già citato nel cambio di scala, che è molto evidente, nel momento in cui diventa un oggetto che deve sostenere degli sforzi, cosa fa? Gli sforzi puntuali cerca di distribuire il più possibile su una superficie di distribuzione, cioè su queste superfici ad arco o sferiche, che hanno la capacità di distribuire al meglio gli sforzi superficiali su questo skin, su questa pelle. Come faccio a separare queste tre cose? Come faccio a dire che il designer è quello che si occupa della forma dell'uovo, che è quello che si occupa della dimensione dell'uovo, che è quello che si occupa della materia dell'uovo, di come è composto? Come faccio? Ora compare una quarta funzione, che è quella che l'uovo è un contenitore, una quarta relazione, è un contenitore e contiene un sistema organico, che ha a sua volta delle leggi molto precise, che diventerà in altre condizioni, diventerà la nascita di una vita. Ora, tac, un'altra relazione. Ecco, questo è un tema che io trovo interessante, capire che anche in una sedia, in uno sgabello, in una scarpa, le cose che io metto assieme sono una capacità di unire delle relazioni specifiche per comporre un unicum, alla fine, che è quello che io chiamo l'oggetto di design. Per cui non è concepibile nella mia visione che io non sappia di chimica, che io non sappia di dimensioni, di una relazione di sforzi e di pesi in relazione alle dimensioni, che io non sappia di cosa servono le forme in relazione sempre agli sforzi e alle questioni del ruolo che questo oggetto deve avere e non sappia a che cosa serve questo oggetto, cioè l'aspetto funzionale. Mentre nella nostra epoca generalmente noi poniamo il design tra la funzione e la forma. Adesso si comincia a parlare di materiali da un po' di tempo, ma di dimensioni ad esempio non si parla. Ecco, è il tema delle relazioni tra le parti, poi ci si potrebbe mettere dentro tante altre cose, il fatto che è una vita che si riproduce, che relazione è? È una relazione con un sistema dell'universo, col sistema biologico, col sistema... e l'individuo che nasce è poi un sistema comunitario, l'individuo in questo caso è la gallina, però è comunque un sistema comunitario, quindi sociale e via così. Le relazioni probabilmente hanno un sviluppo numerico che ancora è incredibile per noi progettisti da comprendere, però un piccolo passo, una piccola parte per volta. Questo è il tema che mi intriga molto del design in questo momento, la questione è che nulla è, tutto è legato a una relazione di quantità, di materie, di funzioni, di dimensioni, eccetera. E andando poi a vedere, è bello, se tu cerchi sotto questo argomento, trovi che anche nella Bibbia, che comunque è il libro più venduto del mondo, più pubblicato del mondo, si dice Dio creò l'universo secondo pesi, secondo misure, secondo materie, una cosa del genere. Quindi anche se si è credente o non si è credente, c'è comunque una relazione molto complessa tra le parti. Grazie.